500 tetti fotovoltaici in Casentino proseguono gli incontri per far conoscere meglio il bando per la realizzazione fino a 500 impianti fotovoltaici di potenza da 3 kilowatt nel territorio della comunità montana del Casentino e nei suoi comuni. Il cittadino mette a disposizione il proprio tetto con determinate condizioni di agibilità del tetto. Noi costruiamo l'impianto sul tetto che ci mette a disposizione, lo connettiamo alla rete, provvediamo alla fornitura di energia elettrica per il cittadino per tutta la durata dei 20 anni, provvediamo a far produrre l'impianto, significa anche manutenerlo, significa anche provvedere al suo successivo smaltimento dopo la fine del suo esercizio dei 20 anni. Il cittadino utilizza tutta l'energia elettrica che viene prodotta sull'impianto, circa per fare qualche numero 3.600 kilowatt ore, li utilizza a pieno, se ne consuma di meno durante l'anno ottiene un rimborso per i restanti kilowattora prodotti, se ne consuma di più si troverà a dover pagare per ogni kilowattora che ha utilizzato in più, oltre ai 3.600 kilowattore. È una vicenda piuttosto remota, però può capitare e paga circa 13-14 centesimi per ogni kilowattore in più che consuma. Il cittadino si trova tecnicamente a doverci corrispondere per ogni anno di esercizio, circa 15 euro che è la tassa di scambio che pretende il gestore dei servizi elettrici, quindi 15 euro l'anno, dopodiché circa 30 euro è la cifra che richiede invece Enel perché continua a fare le letture evidentemente dei contatori e a gestirli. La componente elettrica sarà direttamente da ABN a fatturarla in una soluzione annuale. Sendo stata un'iniziativa completamente pubblica è tutto su internet di fatto e quindi trovate non solo le foto degli impianti già realizzati, probabilmente quasi tutte, ma anche le vie, le città dove sono stati installati, vedete anche l'impatto ambientale, cioè come sono stati installati, sono complanari, quindi non hanno impatto ambientale, abbastanza invisibili. Conclusione di un incontro qui al Comune di Subbiano, credo che ci sia stato molto interesse. Abbiamo registrato un notevole interesse, come d'altronde nelle altre due serate stiamo veramente toccando con mano il fatto che alla popolazione del Casentino interessi l'energia rinnovabile e in particolare questo progetto che stiamo presentando. Beh, interessante, però ora il nostro caso è un po' particolare su ora, non so se ci sono problemi di vincoli particolari. Questo purtroppo esiste e vogliamo proprio in queste occasioni di iniziative pubbliche cercare di chiarire il più possibile tutti gli aspetti legati a questo, perché non vorremmo da una parte dare aspettative a un cittadino e magari ci sono delle difficoltà oggettive, d'altro canto però cerchiamo di promuovere il più possibile perché abbiamo bisogno di 500 domande buone. Il risparmio, si è parlato circa della bolletta di 600 euro per famiglia, quindi è un risparmio. Sicuramente è il futuro dell'energia e poi diciamo che è pulita e cerchiamo un po' anche in Casentino di portare questo nuovo progetto come sta avendo successo in altre regioni d'Italia e si spera che venga presso bene dalla popolazione in Casentino. L'unica cosa è di avere l'assistenza tecnica da parte di queste ditte per poter alleggerire un po' di cose burocratiche ai cittadini. Abbiamo attivato il numero verde che però ci dicono in questi giorni alcune difficoltà, per cui vi darei un altro numero in diretta che è il numero 0575 16 54 626 per contattarci direttamente e avere informazioni sul bando, sugli incontri e sulle modalità di partecipazione. I cittadini devono solo mettere a disposizione il tetto e pagare i costi di distribuzione e la quota fissa Enel. Il montaggio, la manutenzione, la burocrazia, il monitoraggio sono a carico del consorzio ABN che darà anche garanzia per 20 anni e si occuperà poi dello smaltimento dei pannelli. Se il consorzio è proprietario, tutta l'energia prodotta di utilizzo dell'utente. Per 500 abitanti del Casentino ci sarà questa possibilità grazie ad un bando promosso dalla comunità montana con la conferenza dei sindaci che partirà a maggio dopo una serie di incontri informativi organizzati nei centri sociali di otto comuni della vallata. Penso che comunità montana e sindaci abbiano fatto una scelta seria cioè quella di permettere a tutti i cittadini, in particolare quelli che non hanno capacità di risorse sia proprie che attraverso investimenti bancari o prestiti bancari di poter avere sul tetto un pannello fotovoltaico, in questo caso solare che gli permetta di non pagare l'energia elettrica e penso che con questa operazione questa opportunità venga garantita. È un contratto di reciprocità, strettamente di reciprocità, è un contratto di economia sociale. La componente elettrica sarà direttamente da ABN a fatturarla. Il bilancio tra quello che è stato prodotto e quello che è stato consumato viene fatturato all'anno. Mille tetti sono già stati installati in Umbria, ora è attiva l'azione sulla Sicilia con altri circa mille impianti e è in partenza, in fase di installazione, Trieste. Dal punto di vista dell'inserimento ambientale, chiaramente i centri storici al momento hanno più problematiche per ospitare questo tipo di impianti, ci si rivolge più che altro alle aree non vincolate.